Si parte subito palla Barone, Rigisetola subito a lanciare il tank Galesio Abreu, grande rovesciata di Abreu e ancora Bobolicci su questa rovesciata di Abreu. Barone ha questa battuta, al bacio per il tank e gran gol, gran gol di il tank Fabian Galesio, grande soffiata di Leo Abreu, grande progressione del portoghese di Madeira. Attenzione a Barlafante che è un bel giocatore, si vede subito, un bel piede. Attenzione al numero 7 del Giulianova che appoggia tutto sulla sinistra per la corrente di cerchio, mi sembra. Barlafante, gran gol di Barlafante, gran gol di Barlafante. Pericolosamente ancora Barlafante, autore di tre gol consecutivi, due domenica col Tolentino e uno oggi. Ricci, attenzione a questa ancora Barlafante, Biannetta ancora sulla sinistra qui, mette una bella palla ed è Goldi, ed è Goldi, ancora Galesio, ancora Luis Fabian e Galesio. Albanese lascia Cassese. Galesio, Galesio deviato. La mette Cipriani, credo, eccolo qui, palombo centrale. Albanese si era proposto, l'aveva spissata Barone, ancora Roberto Felici. Roberto Felici ad Abreu. Numero 3, Cipaldi, l'autore del cross del primo tempo. Felici. Ammonito, Ammonito. Di nullo, addirittura è spulso. Sì, ma questa palla. Eccola qui, la fine, due a due.